buongiorno ragazzi due parole per chi non mi ha incrociato al casnati io lavoro come giornalista di cinema da circa 23 anni mi occupo anche di sirete divisive naturalmente sul territorio in particolare a Como circa otto anni fa sette anni fa per la precisione abbiamo fondato un festival che si chiama Lei Como Film Festival che per i primi anni è andato in scena all'arena del teatro sociale diventando fin dalle prime edizioni un progetto itinerante che potesse coinvolgere diciamo più location abbiamo fatto degli eventi anche all'hangar piuttosto che in luoghi anche sperduti del territorio della filiera il focus è sempre stato quello del rapporto diciamo tra cinema e paesaggio non soltanto in una chiave naturalistica ma molto a 360 gradi naturalmente questa situazione che stiamo vivendo ci ha portato come festival a dover ridimensionare i nostri obiettivi noi avevamo già delle date pronte per fine luglio calcolando che negli ultimi due anni ci siamo spostati a Villa Erba realizzando quella che due anni fa è stata chiamata Lei Como Film Night e l'anno scorso Lei Como Film Nights abbiamo cioè doppiato l'evento che avevamo creato due anni fa in una sorta di festival happening con tantissimi eventi siamo passati dall'animazione alla proiezione grande schermo alla musica dal vivo naturalmente questa situazione ci ha portato a dover rimodulare tutti gli obiettivi quindi cosa abbiamo fatto sostanzialmente per arrivare a un po' al nocciolo della situazione circa un mese fa abbiamo pensato di lanciare una campagna digitale hashtag real windows dove cercare di raccogliere delle testimonianze video da chiunque da ogni parte d'Italia da ogni parte del mondo questa campagna potete vederla sul sito Lei Como Film Festival dove ci sono tutte le informazioni per poter partecipare e spero che possiate naturalmente partecipare e diffondere il verbo ovviamente perché l'idea è stata quella di non fermarci creare questa iniziativa per farsi di raccogliere dei piccoli video aprendo la propria finestra di casa cioè che cosa vediamo da dove usciamo piccoli video di massimo un minuto realizzati o in verticale o in orizzontale che poi noi raccoglieremo naturalmente dopo questo periodo e di cui poi faremo una sorta di film collettivo che chiameremo il mondo sospeso nel frattempo stiamo lavorando chiaramente sul digital con questa campagna stiamo lavorando su delle newsletter cercando di condividere tutte quelle pellicole che sono che sono passate per il festival in questi anni che ora si possono trovare sulle piattaforme parleremo ovviamente in questo momento le piattaforme sono il luogo dove si può recuperare possiamo recuperare tutto quello che sta uscendo che probabilmente uscirà e questo è un modo anche per cercare di tenere viva l'attenzione sul programma sui programmi del passato ma anche su quelli che potrebbero arrivare questo è il sito lì lei como film festival andate sulla parte di real windows e qua vi spiega in maniera molto semplice come avviene il caricamento esattamente c'è un tutto molto semplice lo abbiamo lo abbiamo creato in maniera semplice sia in italiano che inglese naturalmente per far sì che chiunque possa intervenire possa naturalmente supportare questa iniziativa ci sono appunto delle piccole tappe da seguire il nome e cognome la location e la data naturalmente fanno parte delle caratteristiche del video poi c'è una c'è una c'è una c'è una mail dove potete inviare il video e lo potete caricare ecco questo è il il format che abbiamo creato e che naturalmente è aperto a chiunque voglia partecipare vogliamo andrea far vedere un attimo questo video e questo è una sorta di video spot che abbiamo abbiamo creato di un minuto per lanciare l'iniziativa e questo è un minuto per l'iniziativa e questo è un minuto per l'iniziativa Grazie a tutti.